Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, se sei un fan del freddo, dell'inverno, della pioggia e della neve, premi il pulsante mi piace per questo video. Se sei un fan dell'estate, lasciaci un commento sotto questo video. Quindi, come vi ho confermato nel video precedente, gli aggiornamenti sono ancora confermati dal modello europeo e anche da quello americano, che indica il ritorno delle forti piogge in Italia, a partire da lunedì 24 giugno 2024, poiché le aspettative indicano l'arrivo di aria molto fredda sul nord Italia. Quest'aria fredda porterà con sé la neve sulle altissime Alpi, con maltempo sul nord e centro Italia, e come potete vedere sulla cartina davanti a voi, i colori. Nelle zone cadranno abbondanti quantità di pioggia, che andranno dai venti ai 120 mm come tasso di accumulo, e questo avverrà dopo il 24 giugno, come dicevo, e le zone interessate da piogge e forti temporali dopo il 24 giugno. Sono tutte della Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana-Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia settentrionale. Il tasso di stabilità di queste previsioni è di circa l'85%, e rimanete sintonizzati per maggiori dettagli nel prossimo video.